eccoci quindi qui ragazzi allora benvenuti in questo video serale dedicato interamente al calciomercato per parlare di due giocatori molto molto importanti che sono legati in questo momento all'ambiente giallorosso sto parlando dell'esterno armeno mkhitaryan e soprattutto del centravanti edinson cavani vi dico la verità per quanto riguarda l'oruguagliano non avevo una grande intenzione di parlare di un suo possibile approdo in maia giallorossa visto però che me lo avete chiesto in tantissimi su instagram facebook youtube e compagnia bella ho deciso appunto di collegarmi al discorso di mkhitaryan per parlare anche di cavani e fare quindi un video unico dedicato al calciomercato cosa è successo con mkhitaryan ieri pomeriggio è uscito un comunicato della roma che ha confermato come il giocatore resterà alla roma fino alla fine di questo campionato con un accordo preliminare anche per la stagione 2020 2021 successivamente si è scoperto che questo accordo prevede la rescissione del contratto dell'armeno con l'arsenal alla fine appunto del prestito con la maia giallorossa e l'acquisizione del giocatore a parametro zero per la stagione successiva cosa significa quindi che il cartellino del giocatore non ci costerà nulla perché riuscirà a svincolarsi alla fine di questa stagione oltretutto e questa è una cosa che comunque mi è molto piaciuta perché è legata alle effettive prestazioni del giocatore la prossima stagione verrà firmato un contratto annuale quindi il suo contatto con la roma terminerà il 2021 con la possibilità però di un rinnovo per le prossime stagioni al partire delle 20 barra 25 presenze e questa secondo me è una cosa molto importante perché uno ti permette comunque di valutare il giocatore anche in base a quante partite gioca e quindi dal punto di vista fisico e soprattutto non è una cosa molto carina da fare però se vedi che effettivamente non sta rendendo al massimo e non vuoi rischiare di trovarti un pastore 2 arrivato sulla soia delle 20 presenze quando magari ne mancano poche per far partire il riscatto non lo fai giocare e lo tieni appunto in panchina fino a che termina la stagione e termina appunto il suo contratto questa è una scelta molto intelligente perché ti permette di avere il giocatore senza spendere nulla in una situazione economica giallorossa a dir poco problematica e ti permette di avere un giocatore che secondo me è uno dei perni del reparto offensivo giallorosso in questo momento molti pensano che non sia così perché ha giocato poco e sicuramente il punto di vista fisico è un aspetto da non sottovalutare fatto sta però che nelle sue 22 partite di cui qualcuno da subentrato è riuscito a segnare 6 gol e fornire 4 assist quindi è entrato in 22 partite in 10 dei gol giallorossi e considerando la stagione altalenante della roma che ha visto principalmente in geco il giocatore che ha segnato più gol e praticamente uno dei pochi che ha segnato sono comunque dei dati importanti che ci fanno capire che il giocatore magari fisicamente non è integro al 100 per cento ma quando lo è e quando è in campo si fa vedere quasi sempre perché vi ripeto questi 22 partite non sono state tutte dal primo minuto quindi a livello di statistiche non gli si può veramente dire nulla sicuramente qualcuno di voi si starà chiedendo ma sembra tutto troppo bello dove è la fregatura soprattutto se questa soluzione questa risoluzione è avvenuta con l'intermediazione di mino raiola o raiola come volete voi in effetti qualcosa c'è qualcosa c'è allora non c'è ancora nulla di ufficiale quindi per ora l'unica cosa che sappiamo è che mkhitaryan resterà con la roma fino a questa stagione e per quella successiva acquisito parametro zero io però penso che e tutti quanti lo pensiamo che con raiola di mezzo non è mai tutto rose e fiori cosa intendo io mi sembra un po come il diavolo non voglio certo esagerare con i paragoni ovviamente le persone cattive cattive sono altre però parlando a livello calcistico mi sembra proprio come il diavolo non so se avete presente il diavolo robot di futurama per fare un esempio che ti dà una cosa bella però al tempo stesso te ne toglie un'altra praticamente come io vendo l'anima al diavolo lui mi dà quello che voglio però intanto ho venduto l'anima al diavolo prima è questo il paragone e a quanto pare c'è una grande possibilità che questo accordo con mkhitaryan possa portare alla cessione di clivert qualcuno sta dicendo addirittura che tuttora raiola sta cercando di mettersi d'accordo con varie squadre per poter cedere il giocatore nel prossimo calcio mercato e ottenere la liquidità che serve per sistemare i nostri reparti io ho sempre detto che tenere mkhitaryan per clivert perché settimane fa si parlava di uno scambio di cartellini con un piccolo conguai a favore nostro non era la cosa giusta da fare perché su clivert ci punto ci puntavo ci punto tuttora il fatto però è che io reputo la sua cessione qualora dovesse avvenire obbligata alla roma sono sicuro che voglia tuttora puntare su di lui però se effettivamente dovesse partire e dovesse scegliere ad esempio tra lui e zaniolo non ci penserei due volte hanno entrambi la stessa età ma zaniolo per diversi motivi non solo legati al campo è un giocatore che deve assolutamente restare alla roma e detto in franchezza se il clivert che devo vedere è quello contro il milan spompato senza voglia senza grinta e che purtroppo si è visto spesso in questi anni in questi quasi due anni con la magia gelorossa ed è stata proprio la discontinuità il suo punto negativo peggiore allora potrebbe partire senza troppi problemi diciamo che se devo scegliere un giocatore da cedere per forza per mantenere una situazione economica positiva allora lui ha malincuore se devo metterla a paragone con altri lo cederei perché appunto è un giocatore che non è stato sempre continuo in questi ultimi anni quindi fatto il sunto del discorso aver preso mkhitaryan secondo me è stato un ottimo colpo perché se riuscirà a mettersi a posto dal punto di vista fisico e il contratto firma che che verrà firmato ci mette da parci comunque ci fa stare bene sotto questo punto di vista ci fa stare tranquilli perché verrà rinnovato solo se effettivamente dimostrerà di meritarlo sul campo e però ovviamente sappiamo che potrebbe esserci qualcosa dal punto di vista delle recessioni per ora non c'è nulla però sappiamo che purtroppo qualcosa dovrà accadere per forza mentre per quanto riguarda cavani scusate sto grondando di sudore purtroppo non ho tempo di andare a casa e fare il video quindi respira per quanto riguarda cavani allora il discorso è totalmente diverso come tutti ben sapete la ligand è terminata prima rispetto agli altri campionati diciamo che si sono voluti anticipare nel periodo in cui sembrava che tutti i campionati si dovessero interrompere alla fine poi credo che solo loro e il campionato olandese sono terminati in anticipo e edinson cavani a quanto pari ha deciso di rescindere il contratto non credo sia ancora ufficiale ma tra poco rescinderà il contratto col pari st germain senza neanche disputare la champions league da quello che dicono appunto non vuole neanche concludere la stagione effettiva con i francesi ma terminare prima il contratto e scegliere una nuova destinazione nel momento in cui si era capito che l'uruguayano avrebbe lasciato il pari st germain a zero sono uscite tantissime voci è uscita fuori l'inter che tuttora dicono sia in corsa è uscito fuori l'atletico madrid che sempre dalle ultime voci si sembra si sia distaccato sono uscite tante squadre un possibile ritorno a napoli e negli ultimi giorni un noto giornalista uruguayano ha sparato la bomba dicendo che secondo lui la roma è quella di aver fatto l'offerta più importante a livello economico all'uruguayano e la sta seriamente prendendo in considerazione salvo poi cambiare il tiro diciamo salvo poi aggiungere una piccola clausola nel giorno successivo e cioè appunto oggi aggiungendo che il suo arrivo sarebbe legato al cambio di proprietà e mettendo sempre in sottointeso che c'è un gruppo molto vicino all'acquisizione di cui però non si sta parlando che potrebbe tranquillamente permettersi le spese del giocatore per rispondere un pochino alla domanda classica e normale dei tifosi dovuta più che altro con che cazzo lo paghi lo stipendio di cavani che attualmente è di 10 milioni netti l'anno io ve l'ho detto all'inizio non volevo parlare di questo giocatore tra l'altro nell'ultima stagione non ha fatto neanche tanto bene sia dal punto di vista delle presenze che degli effettivi gol nell'ultimo anno infatti è riuscito a fare solamente 22 presenze come mkhitaryan segnando sette gol uno di più e facendo tre assist uno di meno quindi più o meno siamo su quel livello e l'età certamente non ci fa pensare ad un suo arrivo come un acquisto per il futuro però mi viene da ridere perché quando si è vista la notizia quando è uscita fuori la notizia io mi aspettavo i tifosi mamma mia cavani oddio che spettacolo fatemi sognare invece non solo ho letto commenti del tipo ma come lo paghi che sono giustissimi ma ho letto commenti del tipo ma è vecchio vengono tutti a svernare ma ma ragazzi ma voi siete fuori voi siete fuori di testa io capisco che la situazione attuale non sia la migliore per avere un un ottimismo generale non solo a livello di mercato ma anche a livello di campionato però da qui a dirmi che cavani sarebbe sottolineo sarebbe un acquisto sbagliato perché è vecchio allora mi fate veramente ridere dopo magari se gecko fosse partito l'anno scorso per andare all'inter tutti quanti ma vendi il bomber vendi questo vendi quell'altro cioè quando in realtà gecko è anche più grande di cavani cioè io io penso che a uno come cavani non gli si potrà mai dire di no mai mai uno dei attaccanti più forti a livello mondiale sì in fase calante ma non si sarebbe neanche avvicinato ad una probabilità roma nel momento migliore della sua carriera questo mi pare ovvio ma a uno come cavani c'è gente che addirittura direbbe no è vecchio no è vecchio cioè poi mi fa ridere questa cosa perché da quando in qua i giovani sono per forza forti e i vecchi sono per forza scarsi cioè batistuta senza fare paragoni è arrivata alla roma a 31 anni cosa ha fatto un anno ha vinto lo scudetto ci aveva la squadra sua dietro ma comunque era anche in età avanzata non era nel massimo potenziale della sua forma però ho ottenuto quello che voleva io non riesco a capire come ci possono essere persone che ok il momento non è dei migliori ma che possano vedere un possibile arrivo di cavani come una cosa inammissibile vecchio non ci si capisce niente non mi lasciamo perdere comunque che vi devo dire io tuttora non do la minima speranza diciamo di un possibile arrivo di cavani che sarebbe importante proprio per ridare comunque emotività al tifo giallorosso perché indipendentemente dal suo calo negli ultimi anni è un giocatore folcloristico è un giocatore che già di per sé comunque ti vende le magliette ti diventa praticamente un ronando alla juve con i dovuti paragoni però penso che si sia capito e mi pare ovvio che il suo arrivo porterebbe ad un'accessione di ed in gecko che più o meno prende lo stesso stipendio qualche milione in meno e per forza di cose la roma non può permettersi di tenere entrambi c'è qualcuno che ha detto fai giocare gecko in campionato e cavani la champions league ma che cazzo state di ma avete visto la carriera mio allenatore ci ho fatto la carriera allenatore qualche qualche mese fa prendendo cavani e alternandolo con gecko come appunto è stato detto ma un conto è fifa un conto è fifa non facciamo veramente paragoni col calcio reale però io vi giuro allora sicuramente il discorso nuova proprietà colpo folcloristico ci sta perché funziona praticamente sempre così quando arrivano a una nuova proprietà si diverte a fare appunto quegli acquisti importanti che a volte sono meno importanti come nel nostro caso quando arrivarono chi era in se gago e compagnia bella mentre in altri casi vedi il pari san germain sono davvero folcloristici io non mi esprimo perché ora come ora la possibilità rimane del 5 per cento per essere buoni per essere buoni però se nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti per quanto riguarda una possibile cessione di gecko perché sono per forza collegati mettetevelo bene in testa e un possibile arrivo di una nuova cordata allora sono disposto a credere maggiormente a questa notizia io ve lo ripeto sicuramente non sarà il cavane degli anni migliori però da qui a dire che non si può prendere perché vecchio mi fa davvero davvero ridere e mi fa capire quanto il tifo giallorosso quando entra nel periodo di massima negatività puoi metterci a paragone messi e ti direbbero ma c'è ma c'ha 34 anni ma che ci fai con messi non era meglio ronaldo sempre così sempre e solo così comunque ragazzi allora ve l'ho detto per miktarian sono contento però ho un po paura di capire chi partirà per prendere il suo posto per quanto riguarda cavani le possibilità attualmente sono misere però se ci dovesse essere una nuova proprietà che vuole fare il colpaccio io sarei assolutamente favorevole l'età può essere quello che vi pare ma un giocatore come lui ad un giocatore come lui non direi mai neanche non direi mai no scusate neanche a 40 anni un saluto dal vostro gladiatore giallorosso da un grondante gladiatore giallorosso che appena andrà a casa si farà una doccia di tre ore praticamente è una cosa che sto facendo ogni giorno visto che sto sudando sempre come un cane un saluto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo ad un prossimo video che era sta roba ad un prossimo video so cotto ragazzi ciao ciao Grazie a tutti